Walter Ray Allen, definito come the most interesting man in the NBA, on and off the court. Per chi non fosse sufficientemente anglofono, l'uomo più interessante della NBA dentro e fuori dal campo. Facciamo una piccola eccezione alla regola di questa serie e questa volta partiamo dalla fine. Il ritiro ufficiale di Ray Allen avvenne nel novembre del 2016 e con gran stupore di tutti portò a galla tutto il marcio presunto tale che c'era all'interno dello spogliatoio dei Boston Celtics nel quinquennio 2007-2012. Ray John Rondo e Ray Allen non si sopportavano e questo venne prepotentemente a galla post ritiro. Ma ciò che stupì tutti furono le parole di Paul Pierce. Eravamo tutti buoni amici in campo ma Ray stava sempre sulle sue. Alle cene di squadra non si presentava, agli eventi per le sue fondazioni noi andavamo tutti ma lui non veniva mai ai nostri. Ray non c'era mai. Alla fine possiamo dire che i big three fossimo io, Kevin, Garnett e Sam, Cassel. Aggiunse però poi anche queste parole. Considero Ray come il Barack Obama della NBA. Parla veramente bene e può convincerti di qualsiasi cosa. L'uomo più interessante della NBA e forse anche uno dei più strani. Ray Allen, un lupo solitario. All'interno della lettera scritta per annunciare il ritiro erano contenute queste parole. Sei stato abituato ad essere il ragazzino che nessuno conosceva. La maggior parte della tua esistenza l'hai passata cercando di farti nuovi amici, cercando di mostrare alla gente che sei una brava persona e che non fai nulla di male. Sei stato abituato ad essere un outsider. L'ultima partita la giocò nelle finals del 2014, ma per più di un anno, all'età di 40 anni, attese comunque una chiamata. Si diceva fosse fisicamente messo meglio di molti ventenni, ma tant'è. Forse proprio per quella sua indole da lupo solitario la chiamata non arrivò e fu costretto al ritiro. Questa sua indole solitaria deriva dal lavoro del padre, militare costantemente trasferito da una parte all'altra degli Stati Uniti. Nemmeno il tempo di farsi qualche amico che subito doveva fare le valigie e ripartire. Perennemente lo straniero. Ed è forse questa la causa del suo non essere, propriamente, un uomo spogliatoio. Il basket diventa il suo sfogo e contemporaneamente il suo scudo. È fortissimo già da giovane e dovunque vada lo usa come arma per cercare di entrare nella nuova comunità. Alla high school ha cifre assurde. 28 punti e mezzo, 13 rimbalzi e mezzo e cinque assi sta partita. Da questo momento il padre non conta più. È lui il padrone della sua vita. Deciderà lui dove andare e cosa essere. Sceglierà Connecticut, dove per tre lunghissimi anni sputerà letteralmente sangue per migliorarsi. Da figlio di militare, tutto si fonda su costanza e duro lavoro. A Dio non interessa se segnerai o sbaglierai il prossimo tiro. Dio ti ha dato e ti darà tante cose, ma non ti darà un jump shot efficace. Quello può dartelo solo il duro lavoro quotidiano. Nel draft del 1996 è la quinta scelta assoluta dei Minnesota Timberwolves. Ironia della sorte sarebbe potuto essere fin da subito compagno di Garnett, ma verrà girato immediatamente i Bucks in cambio di Marbury. Stagione 98-99. Arriva coach Carl e soprattutto quel Sam Cassel con cui si ricongiungerà proprio i Celtics. Con Big Dog e Glenn Robinson formano la prima versione dei Big Three ed approdano nel 2001 alle finali di conference da favoriti. Ray Allen gioca splendidamente. Quel suo jump shot dalla linea dei tre punti è divino ed il movimento senza palla fa ubriacare i diretti marcatori. La sconfitta in gara 7 controfila è lo spartimento della sua carriera. A causa di grossi dissidi interni viene ceduto ai Seattle Supersonics nel 2003, a ridosso della trade deadline. Ma Seattle non sembra il posto giusto per Ray. Giunto nel pieno della sua carriera, all star fisso e miglior tiratore presumibilmente di sempre, viene ceduto a Boston durante il draft del 2007, con Pierce e Garnett all'obbligo più o meno imposto di vincere il titolo. Ray Allen non gioca dei grandi playoff, almeno nel primo turno e in semifinale di conference. Ma contro Detroit prima e contro i Lakers poi esplode letteralmente. Imarcabile. Quei suoi movimenti senza palla e quel suo rilascio celestiale in catch and shoot sono sublimi. Vince il titolo, ma non sarà finita qui. A Boston passa cinque stagioni più o meno indimenticabili. Memorabile il cinquantello contro Chicago nei playoff 2009. Memorabile la difesa su Kobe in gara 7 del 2010, anche se conclusa con una sconfitta. Sicuramente i Big 3 di Boston hanno raccolto meno di quanto avrebbero dovuto, ma in NBA la coperta è perennemente corta. Una sola squadra può vincere, purtroppo. Nel 2012 si stacca da Boston e da proda a Miami, reinventandosi sesto uomo a 37 anni. Sempre Pierce dirà che il motivo per cui non ha più parlato con Ray Allen sia stato proprio questo. È andato dai nostri rivali e non rispondeva alle nostre chiamate, mancandoci di rispetto. Quando i Celtics erano in trattativa con lui, io continuavo a chiamarlo, ma lui non rispondeva a nessuno. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Ad aprile 2012, appena prima dei playoff, Rondo avrebbe accusato Ray Allen di essere geloso di lui. Farò in modo che quest'estate ti cacciino da qui, avrebbe detto Rondo, ad Allen, secondo la sua testimonianza. A chi dà ragione? Francamente, non lo so. Ma parlavamo degli hit e del loro nuovo sesto uomo. Sesto uomo piuttosto di lusso, non credete? Non avrà più i fari puntati addosso, potrà concentrarsi sulla qualità massima nei minuti che Eric Spelstra vorrà dargli. Fisicamente sta divinamente, la testa è sempre la stessa. Le finals 2013, con buona pace dei victori di Miami, le deciderà proprio lui. San Antonio ha la partita ed il titolo in pugno in gara 6, 95-92 con 20 secondi sul cronometro. Errore di Lebron, rimbalzo di Bosch, riapertura per Ray Allen, che in un movimento solo mette a posto i piedi e spara. Il resto, come si suol sempre dire, è storia. The Shot consegna agli hit la gara 7 e sarà un colpo tremendo per gli Speroni. Un giocatore che ha vinto due titoli e lo ha fatto in due modi indimenticabili. La prima volta ha riportato il titolo a Boston per giunta contro i Lakers. La seconda volta ha consacrato definitivamente la carriera di uno dei giocatori più forti di sempre, con un tiro impossibile allo scadere. Nel mezzo della sua vita, 1996, anno in cui venne draftato, fu protagonista della pellicola He Got Game, da cui deriva il suo soprannome. Per chi non lo avesse visto, consiglio di correre subito a colmare questa grave lacuna, una performance da Oscar nell'interpretazione di Jesus Shuttleworth, figlio di Jack, interpretato da Denzel Washington. Un film di Spike Lee incentrato sull'ipocrisia del mondo NCAA, in cui a questi giovani afroamericani offrono una macchina, soldi, qualche gioiello e l'esca di qualche figa bianca. Se sei il più grande giocatore di tutti i licei della nazione, puoi star sicuro che arriveranno a sventolarti qualche paio di mutandine sotto il naso. L'interpretazione di Ray Allen sarà magistrale, così come il suo celestiale ed elegante jumpshot, che rimarrà per sempre negli occhi di noi amanti del basket tastelle e strisce. All of Famer 2018, Walter Ray Allen Jr.